Per me, ma per tutto il nostro genere, significa che la nostra denuncia sta arrivando da qualche parte. In America i rapper americani vengono twittati da Obama, magari il nostro Presidente lo non ascolterebbe, però è la prova che in Italia magari sta pure un po' indietro su questo. Però qui a Sanremo c'è tanto Napoli, c'è anche il tuo amico Clementino. Come vivi questa sfida con lui? Ma io ti dico la verità, fino adesso non si è sentita proprio questa sfida, perché per fortuna siamo molto molto amici e questa esperienza, anzi, ha rafforzato ancora di più la nostra amicizia perché se non ci divide un festival di Sanremo in gara insieme, penso non ci potrà dividere niente più nella vita, quindi me la vivo alla grande, Rock One, Clementino, comunque vada, dovrò presentare la nostra terza.